Andate così fino alla fine, non aumentate. Piano di fede, insieme ad noi. Bene su dritti, bene su dritti. L'errore del numero 4, Mindipelle. L'errore del numero 13, Robinio. L'errore del numero 8, Mindipelle, qualificato? Sfugge al comando Naip di Poggio. Numero 13, Robinio, squalificato. Naip di Poggio in chiara evidenza. Così, sulla vetta di fronte. Numero 7, Nelson Milar Bigi, squalificato. Nelson Milar Bigi. Guardia Naip di Poggio in seconda posizione. Il numero 5, Mariner Code. Poi prova a miglare per niente. Il numero 1, Ricasoli. All'arco sta migliorando il numero 9, Berge del Rio. Che in breve passa in seconda posizione, proiettandosi a lato del leader. Numero 1, Ricasoli, squalificato. Comparamento della piegata. Passa Berge del Rio. Così per il passaggio davanti alle tribune con Berge del Rio. Che continua al comando per la seconda posizione all'esterno. C'è Mariner Code lungo la porta sempre Naip di Poggio. Poi all'esterno, Papas del Pino. Avanti a Nadino. Quindi il Re di Cielo e il Re di Pion. Qui indietro Rosetta Polk. Avanti a Melandri Chiu. Penultima piegata. Con il vantaggio Berge del Rio. Secondo in cuore, Mariner Code. Terzo di dentro, Naip di Poggio. Quattro all'esterno, Papas del Pino. Dopo 31 e 1 della terza posizione. Continua al comando Berge del Rio. Dal gruppo lo scatto di Re di Cielo, il favorito. Così a metto giro dal termine, Re di Cielo. Perviene sui primi. Passa al comando. Gruppo migliorante Revion. All'avanguardia, Re di Cielo. Seconda Revion. In terza, Berge del Rio. Re di Cielo in vantaggio 28 e 7. Per completare il quarto. Per seconda, Re di Cielo. In terza, Berge del Rio. Poi in quarta, Mariner Code. Comprisamento della curva. Cavandi entra lì addirittura. Con Re di Cielo in vantaggio avanti. Re di Cielo. Poi Perge del Rio. Re di Cielo in vantaggio. Smorgon che prova a ricucire lo svantaggio ai confronti del rivale. Re di Cielo con Re di Cielo che insiste. Re di Cielo. Re di Cielo. Mentre per la terza posizione. Resiste il nove di Perge del Rio. Sul due di Medino. E sull'otto di Re di GSM. 28 e 7. Il quarto conclusivo. Così come la penultima. Perzione. Re di Cielo in vantaggio. E allora per l'attrice di questo premio a battaglia. 12 Re di Cielo. 14 Re di Cielo. E poi 9 di Perge del Rio. Per il quartè. 12 14 9 2. Per il quente. 12 14 9 2 8. Salvo ovviamente. Errori o domissioni o diverso giudizio. Di giudice d'arrivo. E giuria. Su tutto e su tutti. Tre milioni e Marcos Smorgon. 15 1 Attenzione. Attenzione.